Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video qui al Miller K Parla e come potete vedere siamo già su un grandissimo gioco sono voluto partire così, come si mette la mappa? mappa? no, voglio la mappa vabbè, comunque, mappa a parte, siamo su Fortnite questa è la mia pronuncia alla English un gioco davvero fantastico ho giocato una volta, non so come funziona è la prima volta quindi che ci faccio video su questo e chiedo gentilmente dei consigli ho visto qualche video su YouTube su questo gioco e posso dire che è davvero, davvero difficile confermo tutto quanto io adesso quanto neanche ve lo sono creduto però è davvero molto figo pistolino tattico no, non volevo, scusa cioè, calmati ok, comunque è difficile perché bisogna raccogliere materiali bisogna fare tantissime cose ho visto quindi intanto io oh, che roba ho visto che bisogna fare tantissime cose ah, ecco come si fa la mappa ah, hai capito oh, oh, oh qui sparano oh, fuori, corri, 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 corri oh, stai fermo dove sei? dove sei? stai buono stai buono io non ti ho fatto niente ciccio bello fermo, eh non ti azzardare, sai vai a cuccia via 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 se intanto dovrei essere nella safe zone quindi adesso siamo a posto cosa c'è questo? oh, oh, oh oh, oh scogli più prendi tutto io devo capire sto morendo io devo capire intanto come si costruisce no, voglio cambiare costruzione come come si fa? ah oh, oh fermati, eh ciccio oh, la mia sì oh, oh la mia prima game sono felicissima come si usano le bende? me lo spiegate per cuore come si usano? ah hai capito bella rispetto a come cuore un po' perché mi ha fatto i grandi danni questo così bellissimo ho fatto ho fatto il mio primo che io sono contentissimo ragazzi allora usiamo il fucilozza sottofondo allora dico dico che grande gioco e penso in primis di hai già 75% di salute sei scorretto però non è che che ti fa dico ok devo ancora imparare bene a costruire eh volevo dire che di portare una partita barra 2 in base a come vado naturalmente su questo gioco perché è davvero molto lungo piano calmati tranquillissimi oh oh no dove sei? dove sei? oh cos'è sta roba qua? cos'è? oh cosa vuol dire? si sta riducendo veloce allora mi preoccupo va bene va bene andiamo a vedere qua se c'è qualcuno io non so bene ancora come funziona questo questo giochino eh raga lo dico chiare è tondo ok 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 come ci si piega agami dite come ci si spiega su sto gioco ah qua l'ho ricaricata va bene qua costruisco qua uso piccons va bene mi giuro che non volevo farlo ve lo giuro non sapevo neanche piano c'è qualcuno qua fermo dove sei? andiamo a cercare no sono un idiota bene chi l'ha tomale andiamo avanti facciamo una seconda partita raga allora voi ditemi un posto gentilmente dove ci sono molti materiali e io provo ad andare qua adesso proviamo ad andare lì alle piagge snob raga a questo punto ho raggiunto il boschetto bisunto raga dovremmo essere vediamo quanti siamo uno due che vanno al boschetto bisunto di ora mi metto qua lontani da loro buongiorno permesso mamma sono tornato ce ne su già si vogliono bene sentite come si ammazzano mamma mi dispiace distruggere la tv dei 500 mila pollici però mi serve che nessuno cosa è questo perché tutti qua ma perché tutti qua tutti già qua tutti qua e il colmo non so io niente ho fatto ma perché non vi volete fare una bella partita a me no io lo voglio qua chi c'è cucù c'è nessuno c'è nessuno mamma scusa faccio forte lavoro di ristrutturazione c'è nessuno pronto no eh mamma perdonami mamma ma fidati che questa casa te la faccio come nuova apri 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 alò alò che bello ragazzi anche il primo baule no questi mie queste roba mia questa è tutta roba mia non ce la togliati proprio cos'è un altro baule ah non bad non very roll look at that look at that raga mi sa che dobbiamo iniziare a partire se no qua facciamo una brutta fine io distruggo cassa ma è forte niente tanto non mani paca allora andando avanti nel tempo perché noi prendiamo la nostra pistolina ho paura che anche qualcuno venga da dietro devo capire raga come ci si piega ah ho capito sono troppo forti imparo sempre così ma ho visto gioco e sono contento c'è nessuno pronto eh ma grandi armi ma grandi armi allora sempre verso la safe adesso io ve lo sarei su quella montagna per vedere se c'è qualcuno penso che non ci sia nessuno io mi nascondo faccio della grande cosa faccio delle grandi cose allora perché non mi fai costruire un muro perché si ah one moment al posto è pompa eh al posto ci sono con il mio fucilotto tattico io io vorrei continuare a costruire sinceramente sei un bastardo io sapevo che mi dovevo guardare attorno io lo sapevo beh ragazzi l'episodio di oggi si conclude qua ve l'ho detto io sto gioco non ci so proprio giocare ma 0 0 0 ho iniziato a poco due o tre partite comunque mi sono divertito già molto posso dirlo mi sono divertito davvero molto qui dal vostro niler è tutto se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale noi ci vediamo a una prossima volta ciao ragazzi ciao